Il mandato, il secondo alla guida della comunità montana del Vallo di Diano per Raffaella Cetta, scade domani. Nei giorni scorsi, in consiglio, si è dato vita alla crisi della governance dell'ente con divisioni soprattutto in seno al centro-sinistra. È stato deciso per un incontro provinciale con il PD e gli altri partiti dell'orbita del centro-sinistra, alla presenza anche dei due consiglieri regionali Pellegrino e Matera e dentro il 15 gennaio verrà proposto un organigramma per gestire la comunità montana. Sono molto tranquillo, ha riferito il presidente Accetta, è normale che quando finisce un mandato si faccia il punto sulla situazione e poi si si esige sul da farsi. Per questo motivo ho anche accettato la proposta del sindaco Paolo Imparato. Fino a settembre scorso non c'erano segni evidenti, forse qualcuno latente, di divisioni interne ma poi dopo l'approvazione del bilancio e l'assenza di sei sindaci qualcosa è cambiato ed è cominciato a emergere il problema in seno alla montana. L'impressione è che ci siano grandi manovre nel Vallo di Diano per la conquista di ruoli sovracomunali non solo nella comunità montana e ci siano nuovi o vecchi equilibri da ritrovare con una ridistribuzione delle varie cariche e con alcuni dissidi tra amministratori da risolvere. La speranza è che ci sia un'autodeterminazione del territorio e non vengono imposte da politici non del Vallo di Diano. Ripercorrendo il tutto, tre mesi fa quattro sindaci, Buonabitacolo, Polla, Atena, Lucana e Montesano sulla Marcellana, scrissero una lettera per chiedere lumi sulla situazione dell'attuale maggioranza in seguito anche all'approvazione in extremis del bilancio. Nei giorni scorsi poi il sindaco di Buonabitacolo, Giancarlo Guercio, ha scritto sui social una lunga lettera di richieste al presidente Accetta e quando la guida della comunità montana stava per leggere il documento in consiglio il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, ha girato la sedia e si è messo di spalle in segno di protesta. Da quel momento è cominciata la bagarre. Della parte i quattro sindaci sovracitati, anche se Buonabitacolo era assente fisicamente al consiglio, dall'altra il fronte del PD, Esposito, Michele Di Candia e anche Francesco Cavallone. In mezzo Accetta e la sua leadership che vacilla. Nell'area del centro-sinistra non si può dimenticare il consigliere provinciale Paolo Imparato, anche egli contro l'attuale maggioranza da tempo. Il fronte PD ha richiesto in pratica un azzeramento totale delle cariche e la convocazione del tavolo provinciale con il partito e i consiglieri regionali. I tre hanno poi accusato i sindaci di Buonabitacolo, Polla e Atena Lucana, di non avere alcuna sponda partitica. Tra le varie posi si potrebbe ripartire dallo stesso Accetta, anche se i rumors lo indicano ormai al capolinea, o virare su uno dei tre sovracitati e in più c'è anche Imparato che scalpita per avere questo ruolo. Ricordiamo che a Padula si vota e lui non può più candidarsi come primo cittadino. Altra soluzione potrebbe essere lo slittamento a settembre dopo le elezioni comunali, strada poco percorribile perché in pratica nel Vallo di Diano si vota ogni anno. Una lotta interna soprattutto al centro-sinistra che trova la soluzione, si spera, a metà gennaio.